Anno 2887, il Commonwealth ceceva in rovina. Guerra, radiazioni, fame e violenza vi imperversavano. Come se non fosse già abbastanza dalle profondità marine emerse Godzilla, bestia famelica di radiazioni che distrusse l'uomo, la speranza. Anche il castello dei Mino, cuore vibrante della resistenza, si arrese di fronte al gigantesco mostro e attirato dalle radiazioni del mare splendente, Godzilla si diresse a sud. Lasciando dietro di sé una scia di morte. Ma un bagliore di luce ancora brillava nell'oscurità. L'istituto era riuscito nell'impresa, creando Sintkov, il re dei Gorilla Setteci. Una bestia di qual potenza, ultimo baluardo della libertà. Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.